Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sulla questione bici Abbiamo trovato della pelle di bici e come provo Che così non stavamo scherzando, lo sapete E innanzitutto voglio dire A una mia amica che Guarda sempre i miei video Di scrivermi quello che sa dei commenti Perché so che lei ne è abbastanza Chi? Scomparsa Chi? Siamo dei maghi Chi? Vai Addie ancora, falla scompare Falla scomparire Addie Non così Lo faccio scomparire E vabbè si vede il dito Io l'ho fatto bene Ciao Raga allora adesso leggiamo questo foglio Che abbiamo Abbiamo scritto Degli appunti Andrea Andrea ci ha suggerito delle cose Appunti biscia Appunti biscia Esistono altre specie di bisce Ma sono solitamente presenti In particolari zone geografiche Due Le bisce sono rettili Appartenenti alla famiglia dei colubridi Le bisce possono arrivare dai due centimetri ai sei otto metri Quattro Possono partorire massimo diciassette figli E sono tanti E ogni volta ogni figlio che si accoppia un'altra volta? Eh Tre Cinque In Italia esistono tre tipi diversi di figli Biscia dal collare La biscia tessellata E la natrice di viperina Sei Le bisce sono rettili non velenosi Sette Però magari non sia Però noi non siamo sicuri se è una vipera o una biscia Perché dagli occhi sembra velenosa Sette Eh L'ultima Sette Le bisce possono cambiare colore in base all'ambiente Quindi si possono mimetizzare Quindi è un'altra cosa perché alcune volte non le vediamo Però possiamo notare Che nonostante tutto Abbiamo questo colore Che schifo Mi fa un po' schifo sinceramente Che è tipo cemento Non tipo cemento Però è grigio come Come la maglia di Andrea tipo Come le tue sedie Come il pavimento Guardate Solo per farvi capire Volino Guarda Vedete È lo stesso colore praticamente Prova a vedere sul cemento che magari ha la stessa cosa Cioè se io dovessi passare da qua la vedrei però Fare un po' fatica Andiamo di là e andiamo a vedere un po' cosa c'è Sì Ragazzi vediamo tra 3 2 1 Dall'altra parte Ciao Vabbè raga Allora Eccoci Pinta male Allora Siamo qui a controllare Per la viscia E Tanto che io prima mi sono Letteralmente Stai morta Raga io ho metto dentro il telefono Anche per vedere cosa c'è Io non vedo niente Io non vedo niente Raga Non so cosa sto neanche Raga poi quando rivedrò il video Sarà sulla tua veranda Quando rivedrò il video Io mi sono spaventata a morte Che mi sono seduta un attimo per terra E ho sentito dietro di me Un Ecco Tipo Esatto Inverso appunto E poi ho sentito anche muoversi In fondo Aspetta Aspetta Io ero in quel preciso punto Là Sì E Cos'è successo Lei oltre a aver sentito quello Io ho sentito Il rumore di erbe e arbusti Che praticamente Si muoveva tutto Lì Ed è quello che c'era scritto Che si muovevano così Se si muovevano velocemente Un'altra cosa importante È che attaccano Si mimetizzano Quindi Sei viva Attaccano solo Sto parlando Stossicci prima Attaccano solo Se si sentono minacciate E Del resto Attaccano solo Stati prego Non dirmi che ho visto Quello che ho visto No è un fatto dei Sì Ok Ragazzi Rifaccio Rifaccio Quello di prima Se mi vedono Che mi arrampicano Tranquillo Non controllo Non è un altro spagnolo Aiuto Qua vedo anche Non si riesce neanche a mettere dentro il braccio Che mi ispira Aiuto Ma tutto il magno Su un punto Tu sorella si è fatta del male Potrebbe essere ovunque In questo momento E si potrebbe essere E si potrebbe essere E il mezzo è entrato là dentro Eh? E' entrato qua dentro E va beh raga Quello lì sa volare E si potrebbe essere mimetizzata Con qualsiasi cosa Esatto Potrebbe essere anche qua sopra In questo momento Sarebbe comodo qua uscire Sai Però Sei veramente lunga Dai 6 Agli 8 metri E' gigante Perfetto Sto me l'ho detto male Potrebbero essere Centimetri Secondo me No Affidati Sono grandi Eh ho capito Mio padre ha avuto Un pitone intorno al collo Quando siamo andati al cerco 8 metri 8 metri di bici È tanto Non si vede niente Qua dentro Raga Non so cosa fare Non si vede niente Ma niente di niente E ormai C'è la bici C'è stato anche Tanto tempo a fare Vabbè raga Torniamo sulla mia veranda Tra 3 2 1 Rieccoci Raga Concludiamo col video Un bacione Un abbraccio Ciao